C'è una tendenza reiterata in Italia negli ultimi vent'anni a costruire formazioni politiche attorno a delle persone più o meno brave, più o meno grade, per amor di Dio. Io sono l'unico che non mette il nome sul simbolo essendo stato indicato da primarie a cui hanno partecipato 3 milioni e 200 mila persone. Ci scrivono vari ascoltatori su Twitter e dicono però la faccia c'è sui manifesti. La faccia deve esserci, ma in tutti i paesi del mondo c'è la faccia. Ci sono dei leader che si presentano come leader e come tuttavia un risultato di un collettivo che rimane a prescindere dal leader. Via la faccia di Bersani ci sarà un'altra faccia, ma espressione di un partito nuovo, aperto finché si vuole, ma di un partito che garantisce linea politica, stabilità, riforme, visibilità. I partiti personali danno instabilità e rigidità e lasciatemi fare un esempio. Sto dicendo una cosa da poco, sto dicendo una cosa drammatica. Per esempio, era già chiaro da due anni, un anno e mezzo. Era chiaro all'establishment mondiale italiano e perfino ai componenti del centrodestra che la leadership di Berlusconi e il governo di Berlusconi non reggevano davanti al problema. Siamo dovuti arrivare sull'orlo del precipizio per cambiare le cose. Perché? Perché i partiti personali, quando uno è inchiodato non si sa come muoverlo, perché non hanno una vita democratica. E quindi, come ci ha sempre detto Amartya Sen, la democrazia aiuta l'economia e la società perché ti mette in condizione di correggere gli errori per tempo. Se i partiti non hanno un meccanismo democratico producono una democrazia ingessata. Attenzione, è un problema serio. Tant'è vero che in tutte le democrazie del mondo ci sono le facce dei leader su manifesti, ma in nessuna democrazia del mondo c'è il nome del leader sul simbolo della formazione politica.